Stamattina mi sono imbattuto in un articolo che parla della comunità cinese. Quattro imprenditori che vivono a Bologna sono stati arrestati con sequestro di beni per 10 milioni di euro perché tenevano il personale in una maniera vergognosa. 14 ore di lavoro al giorno, vivevano all'interno del capannone, quindi casa lavoro tutto bello comodo lì, in più nessun giorno di riposo. Siamo a livelli di schiavismo. Una cosa però la devo dire. Ragazzi, sono anni che sappiamo dei comportamenti di una buona parte della comunità cinese. Sappiamo che aprono le aziende e nell'arco di un anno e mezzo vengono chiuse per evitare che l'agenzia delle entrate possa iniziare i controlli. Sappiamo che partono con borsoni di soldi e se li portano a casa loro perché ci sono fermi ovunque. Se guardate su internet ce n'è ovunque. Quello che dico io, ma se noi già siamo pieni di problemi, ma vogliamo iniziare a controllare anche queste comunità che magari, non dico tanto, riusciamo a stare un po' più tranquilli. Questi si portano via dai 3 ai 4 miliardi all'anno facendo così. E alla fine chi paga sempre? Noi coglioni onesti che siamo qui. Non è un segno di razzismo, non sia mai. Però non la vedete come me?